benissimo buonasera buonasera a tutte e a tutti benvenute benvenuti al barba simposio del giovedì sera metto gli occhiali perché ormai lo sapete non sono solo più miope ma anche prenderci le un po tutte ma stefano c'è già così posso salutare abbracciare virtualmente benoire fra l'altro gli amanti della musica ci sono già e dunque questo per me è già un ottimo un ottimo segnale molti rocchettari ma stasera parleremo tanto di musica tal è arrivato dr gregory house con il dottor house come profilo c'è gaia c'è irene intrepida intrepidante attesa grazie matteo ci mancherebbe come sapete il giovedì sera io cerco di spaziare nel mondo della cultura 360 gradi alcuni erano rimasti spiazzati sono rimasti spiazzati per l'invito della scorsa settimana quando con vi ho parlato di squirting è vero che era un po un'anomalia perché adesso parliamo di storia di filosofia di letteratura sugli argomenti portanti sicuramente però mi piace anche un po cogliermi in contropiede parlare di cose anche nuove diverse per ampliare chiaramente tutti gli orizzonti culturali perché la chiusura lo sapete in realtà non è mai protezione ma è è una prigione viviana mainelli ciao saudi ciao cara ciao cara hai avvisato i tuoi allievi questa questa volta parliamo di una cosa molto molto vicina ai giovani come si suol dire chiaro aberto ciao chiara un abbraccio una mia carissima ex allieva e qua presente alexandra c'è francesco siani buonasera ciao silvia ti ho risposto prima anche sto abbastanza bene la salute regge bellissima la diretta sullo squirti è vero è vero è era prevenuto ma poi apre gli orizzonti poi dice mi piace non mi piace condivido prendo chiudo apro porte questa sera lo sapete già avete visto gli annunci ci sarà pietro morello parleremo di musica parleremo dello studio dell'arte della musica in italia parleremo di sanremo parleremo di tiktok parleremo dei suoi progetti di musicoterapia perché io io lo seguo su tiktok come mia figlia va bene e ho scoperto tantissime cose e voglio chiacchierare con lui emancipazione vero aprire gli orizzonti significa emancipare ciao eva chiara giustamente violinista chiara vuoi fare delle domande a pietro dopo ti metto subito in sovraimpressione ci ricordiamo i lavori chiara fatti a scuola è in occasione del giorno della memoria in occasione anche della settimana del libro quando con la tua classe ho presentato 1984 tu hai fatto l'accompagnamento musicale bene 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 state arrivando chiamate le amiche e gli amici che andiamo ad iniziare mi volete a sanremo ma cosa vado a fare a san marzo vado a presentare vado a fare un monologo vado a fare chissà chissà che magari un giorno non finisca anch'io oggi ho fatto una bellissima intervista con la mondadori di andrea e c'era una bambina ragazza 11 anni si ancora bambini però ciao carlo un abbraccio carlo devo poi iscriverti perché oltre alla serata anche i partigiani però vorrei fare qualcos'altro sempre sul 25 prima ti scrivo ti scrivo domani oltre ad andrea una bellissima intervista di una bambina di 11 anni che la direttrice di una biblioteca itinerante mi ha fatto un po di domande sto veramente veramente bello allora andiamo ad iniziare vi dico un paio di appuntamenti in settimana così mi porto avanti beh oggi ho pubblicato un video su platone tutto platone tutto platone tutta la teoria dell'idea di platone compatta in 40 minuti va bene la trovate ovviamente sul sul cane barba sofia ho pubblicato altre due lezioni su galimberti le cose dell'amore anche le trovate tutte gratuiti su barba sofia domani per tutti gli abbonati su tp io vi ricordo che si si abbona a partire da un euro al mese un euro al mese non so come dice neanche un caffè c'è l'abbonamento bacconi si chiama ci sarà da domani una nuova analisi del testo nuova lettura ed è l'elogio della follia di erasmo da rotterdam dunque in parallelo c'è l'anticristo di nice e l'elogio della follia di erasmo da rotterdam visitate la pagina tp abbonamento bacconi in due euro un euro un euro scusate c'è sotto proletariato e dall'altro lato c'è l'abbonamento marx a due euro poi avete c'è anche l'abbonamento più per me sniciano ma lì è soldo per per i per i ricchissimi prontasi tutti ti aspetto e poi l'ultima cosa poi iniziamo anzi ultime due e disponibile sulle piattaforme cambiamo la scuola ho visto max stefano che anche amazon lo dà pro tu giustamente vai dal libraio i libri vanno sollecitati sta andando bene cambiamo la scuola abbiamo presentato l'altro giorno con maura con andrea di tron sta dando vita a molti dibattiti lo porterò anche con l'esilo del bosco do presentare questi temi di cambiamo la scuola lo trovate nelle librerie sui portali e questa cosa l'ho detta l'altra ma forse l'altra non me la ricordo ve la dirò ve la dirò per marzo a un euro marx è a due euro perché perché a un euro è bacuni nel sottoproletariato abbonamento sotto ecco la novità nuovo percorso campus del cambiamento università popolare campus del cambiamento e faccio un corso sull'esistenzialismo da kirkegaard a jean paul sar passando per elementi esistenzialisti in nice e poi ovviamente martin heidegger e anche simon debouvoir dunque tantissime cose ho detto siamo praticamente a cento chiamate amiche amiche faccio entrare l'ospite di questa sera sono molto contento di avere qua con me pietro morello ciao pietro a tutti ciao matteo che bello vederti sono veramente contento anch'io sei l'ospite più giovane che ci sia mai stato diciamolo subito al barba si imposo ok è fantastico la mia figlia mi ha detto questa sera papà ti seguo anche io mia figlia sofia che ti segue su tiktok metto finalmente un ospite interessante il suo obiettivo che qua ci sono carlo greppi che ha parlato di antifascismo mancano quelli che hanno parlato del partito comunista o delle elezioni presidenziali posso capire mia figlia chiaramente ha 12 anni e quegli argomenti erano un po lontano finalmente ma fa un ospite che piaccia anche a me che piace anche bene dopo di che anche la mia carissima affezionatissima ex qua di pallavolo perché io pietro ho allenato a torino per 16 anni pallavolo ho fatto di circa 10 anni nel femminile e 67 anni nel maschile lo scorso anno la pandemia ha interrotto il campionato e io poi il canale i libri il manuale i festival non facevo più non avevo più tempo per farlo come mi piaceva farlo c'è passione io quando altro fischiava loro riprendevano in giro avevo un trasporto tale non riuscendo ad allenare come volevo ovviamente lasciato c'è un altro relatore bravissimo allenatore che ha preso la squadra stasera oggi l'obbisato guardate ragazzi c'è Pietro Morello e loro mi hanno detto ci saremo dunque io già saluto Clara Isabel Bianca Martina Ludovica tutte le mie ex giocatrici e le bacio e le abbraccio tanto sapete che siete sempre nel mio cuore abbiamo sfatti 100 e possiamo iniziare Pietro Morello sei tante cose io comincio a dire hai più di un milione di follower su tik tok dunque questo è un vero mi vibra tutto perché non ci credo neanche io poi mi dici che peso ha questa medaglia io ti presento un milione di follower su tik tok ok con contenuti e poi ci presenti scrivi musica collabori ovviamente con artisti ma soprattutto porti avanti un discorso di musicoterapia per bambini e bambine malati o nella condizione di povertà malati fisici e malati psichici e questo ti rende di fatto un protagonista dei social assolutamente diverso da tanti altri ti rende comunque unico in questo percorso io ho detto alcune cose di settimana santo sanremo ci racconterai anche i tuoi amici maneschi hanno vinto i migliori più bravi di raccontare tutte queste cose ma io adesso andate lo faccio per chi ancora non conoscesse chi è Pietro Morello ah ma tu mi hai già fatto una presentazione che ha nutrito il mio ego tantissimo ma io appunto sono un ragazzo in realtà di 21 anni di torino e adoro i bambini adoro lavorare con i bambini tutto è partito da lì tutto è partito dalla musica del voler fare musica con i bambini e dal volerlo raccontare il mio obiettivo è raccontare quanto la musica possa far bene alle persone per raccontare questo ho cercato tutti i canali possibili e immaginabili per fare avere un megafono enorme no e da lì sono andati un po i social poi bisogna studiarsi le tecniche fai i video ludici e poi parli da un'altra parte del musico terapia però comunque il concetto è sempre quello di di amplificare questo messaggio il più possibile quindi questo sono un po questo questo Pietro quello che tra l'altro se posso esprimere eh un mio un parziale particolare giudizio è quello che io particolarmente apprezzo perché conosci i mezzi li vuoi conoscere e li utilizzi non sono mai il fine ma sono il mezzo questa è la cosa che io più apprezzo del tuo lavoro cioè eh e e e e rivedo in te come è nato un po il mio il mio progetto sono progetti eh simili diversi tu chiaramente una voce con i giovani veramente molto molto potente ma l'idea di utilizzare i social come mezzo per portare avanti un progetto per portare avanti un fine tu però che formazione hai da dove nasce questa passione per la musica poi arriviamo ai tuoi progetti ma come nasce Pietro Morello musicista ma allora musicista eh io ho iniziato a fare come credo tutti i ragazzi di italia chitarra come flauto alle medie no con un insegnante di chitarra veramente illuminato che mi ha spiegato come vivere la musica e non come suonare quattro accordi quindi era molto molto bravo e solo che poi si è trasferito a Malta perché come tu pensai vivere di musica in Italia le dura le dura e quindi per fortuna c'era un pianoforte in casa perché mia sorella lo stava studiando anche lei verso le medie inizio del liceo e io ho l'enorme gigantesca fortuna che non è un'abilità è proprio solo una fortuna di avere l'orecchio assoluto e l'ho scoperto lì e quindi mi ha facilitato nel mettermi al pianoforte ascoltare qualcosa e provare già a giocare io quando vedo che fai quello su tiktok dico che da Roma provo un'invidia pazzesca perché se c'è l'orecchio assoluto nel bene probabilmente c'è anche l'orecchio assoluto del male cioè io possiedo quello cioè io non ho assolutamente orecchio bene dunque per andare un po' a mettere i puntini su lì su questi anche sacerdotoni delle competenze delle skills l'orecchio assoluto non è una competenza che tu puoi ottenere puoi diventare puoi avere un buon orecchio lo puoi ovviamente allenare l'orecchio ma l'orecchio assoluto ce l'hai o non ce l'hai vero pietro diciamo che allora l'orecchio assoluto è una cosa che è una fortuna che ti permette di partire già col piede sull'acceleratore diciamola così però con lo studio si può raggiungere un orecchio relativo che praticamente arriva ad eguagliare l'orecchio assoluto e se l'orecchio assoluto è poco allenato e poco utilizzato allora va proprio a superarlo assolutamente io poi per carità non ho mai studiato pianoforte non ho mai studiato strumento al di fuori di quei due anni un anno di chitarra che ho fatto quindi mi perdo spesso in fattori di tecnica molto molto precisi se mi si mette davanti un brano impossibile non riesco proprio a suonarlo però invece per quanto riguarda l'utilizzare la musica nella mia sfera emotiva e cercare di entrare nella sfera emotiva degli altri l'orecchio mi ha aiutato tantissimo a a viverci e lo strumento quello che io vedo su tiktok in modo fare sui dati social è il pianoforte sì il mio strumento principale poi la cosa divertente è proprio quella di sperimentare una cosa che va molto forte su tiktok è che la gente mi chiede di suonare cose a suonare le uova di suonare carote e quindi il costruire strumenti musicali nuovi che fischiano che suonano sono dei pauti e cercare di di improvvisarci sopra è proprio il bello della musica che da rio fa come ti chiedo queste cose buffe co come le vivi queste richieste le vivi come adesso faccio un po il il giullare nel senso nobile alla dario fo oppure dici mamma mia devo fermare tutto ciò perché altrimenti no devo prendere una brutta deriva come vivi queste richieste anche un po strane del pubblico giovanile prima è che io posso decidere a quale dare peso e quale no e quindi tutte quelle che sono veramente al di fuori di ogni normalità e di ogni ma poi io non sono una persona normale però al di fuori del decente allora mentre quelle che sono più interessanti per esempio suonare un uovo che è una cosa che mi hanno chiesto da poco quindi mettiti lì a scalfire l'uovo per fargli fare un fischio per farlo diventare una carina cavolo è stato divertentissimo e come hai detto tu vuol dire farsi giullare alla dario fo quindi un intrattenimento un intrattenimento che ha anche un messaggio dietro volto ad avere tanti numeri tanti numeri poi li sposti per parlare di bravo bravo a questo sarà un momento poi centrale la nostra chiacchierata ma scaldiamo i motori sono già tante domande per te ti chiede irene ti sei creato gli strumenti tipo gli stomp io devo dire che quando diventano popolari andai a vederli poi davanti invece della musica devi che la seconda volta un costo di stop volevo già uscire buttarmi del po perché la prima volta abbiamo divertito la seconda già non mi ero divertito più però nel mio giudizio però quando arrivarono a torino negli anni novanti prima novanta mi ricordo concerto gratuito sembra di parlare di un'epoca io sono ero giovane avevo la tua età quando c'erano agli inizi nostra città di africa unite l'inizio dei subsonica e i fratelli di soledad tutta una serie di gruppi in quella nuvel vaga italiana tra fine anni ottanta primi anni novanta ma 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 i gang e poi arrivarono che ti vuole della city remblessed poi a me banda bardo scorso mese proprio scompato tutta una serie di gruppi e c'erano una cosa che dico i miei concerti gratuiti ma dove professore ma in piazza castello ma in piazza vittorio e poi dove alla pelle alla pelle sia la pederina vennero i sex pistols e gli scapè e quanti eravate era il 2003 2004 ma eravamo tipo 40 40 mila persone a ballare seguito gli scapè ci capita sembra che una non sembra è un altro mondo in questo momento la nostra città che purtroppo un po in crisi per tanti motivi è legata al al sindaco la sindaca è legato a questo processo di deindustrializzazione la città è chiaramente si è impoverita e quelle cose sembrano veramente lontanissime più chiaramente la la pandemia tornando in rete sei creato gli strumenti tipo il stop oppure no ma allora ho creato diversi strumenti che però sono purtroppo morti perché tutti gli strumenti che ho creato fino adesso sono con del cibo quindi con delle carote delle zucchine bellissimo crea suono per due giorni poi un pochino marciscono e quindi hanno finito di esistere ah dunque e se un musicista biologico ho sistemato il microfono ditemi se si sente meglio il mio che non segnalato quali sono pietro i generi musicali che ti stimolano di più questa è una domanda che mi fanno tantissime persone tantissime e alla quale io ho sempre difficoltà a rispondere perché io vivo la musica in un modo molto molto particolare ma credo che in realtà sia universale cioè io ascolto a seconda di come mi sento quindi se mi sento che ho bisogno di carica io ho bisogno di sentire del punk ho bisogno di sentire i sex pistons appunto che mi suonano le orecchie se ho bisogno di calma allora mi metto qualcosa di minimale un piano violino un quartetto di violini perché la musica accompagna molto le emozioni dunque sei onnivoro musicalmente sei onnivoro ci faccio domanda provocatoria io qual è però il genere musicale che ami di meno di meno di meno di meno ma allora banale dirlo però la la degenerazione della trap mi sta facendo un bel po male perché io sono un amante del rap un folle amante del rap però la trap per la piega che sta prendendo più che altro per i valori che passa allora non mi piace cioè condivido dopo ne ne parliamo se la mia squadra di pallavolo è in ascolto vi racconto questo aneddoto prima delle gare facevo mettere chiaramente una piccola playlist di musiche per riscaldamento io avevo una canzone a disposizione mi ero messo gli acdc ragazzi ma se dobbiamo riscaldarci c'è un gruppo musicale che farà sempre nostro giro di note non discuto ma quel giro di note fa uscire i morti dalle tombe e li fa ballare li fa camminare in mezzo a noi perché gli acdc quello fanno va bene ma te lo mettiamo è piaciuto ma io per mettere quella canzone ho dovuto ascoltare ognuno ne metteva erano quattordici quattordici canzone quattordici canzoni track allora tra qualcuno era bella altri diciamo scusate ragazzi fermate ragazzi ma qui stiamo parlando di macchina ma bella macchina è vera macchina ma macchina e il solo ragazzi non sarà soltanto questi valori che sono intorno alla vita detto questo lo facevo senza moralismo perché non mi appartiene io fino agli anni ottanta pensa come ero come ero come ero bollito pietro a un certo punto esce al cinema di spike lee fai la cosa giusta e la colora sonora è di pubblic canary io ascolto dico ho trovato la mia musica perché io sentirei di pubblic e da lì allora poi tutti gli altri chiaramente i beastie boys che c'erano già prima prima l'epoca non li conoscevo i beastie boys tu hai un look che puoi ricamare quel quel quegli anni la e per quegli anni la il punk e poi il rap saranno poi hanno contaminato perché hanno vinto è come genere hanno vinto come già musicale come look poi come idee probabilmente no ma tutti siamo ormai punk o post punk siamo diventati è vero è vero è vero è addirittura a sanremo si è fatto molto degli abiti ma era una vittoria totale del post punk perché non c'era più nessuno vestito come a questo di saremo di vent'anni fa era tutto chiaramente contaminato in maniera in maniera pan e dico quel rap la io anche io gli dicevo ai miei ragazzi a volte guardate ragazzi c'era comunque tanto contenuto va bene che fosse la east coast o la west coast ma la old school possedeva comunque dei contenuti non che adesso non ci siano è perché mi sono fermato io ho difeso più volte io sfere basta più volte ho difeso dicendo sfere basta e gali ragazzi raccontano delle cose per voi importanti alcuni miei colleghi e ma gucci sì ma guccini che l'ha che l'ha non racconta perché l'ha ascoltato certo ma non raccontano la vita di una quindicenne di adesso gucci non gliela racconta quando magari lei avrà un gusto musicale più anche raffinato e complesso scoprirà quelle bellissime canzoni ma non è un cantante che sta intercettando la propria la propria esistenza vero pietro assolutamente al cento per cento una cosa importantissima da dire che è vero sono il primo d'aver detto tre minuti fa che per quanto mi riguarda la musica trap sta prendendo una deriva sbagliata però i mezzi comunicazione se comunicano qualcosa vanno sempre bene cioè comunicare qualcosa è il fine della musica il fine dell'arte quindi finché comunica allora è giusto allora sta facendo la cosa giusta sta facendo se comunica ed emoziona sta facendo anche secondo me la cosa giusta ed è ed è una una forma assolutamente di di arte quando sei sbarcato a un certo punto su tiktok partiamo poi arriamo a sanremo arriamo a tutte le altre cose e chiuderemo con la parte più a cui anche tu tieni di più sotto attività di musicoterapia e la musica che può cambiare il mondo perché di questo stiamo parlando perché quando aiuti una persona aiuti il mondo su questo di questo ne sono convinte ma il tuo sbarco su tiktok dimmi un po quando è venuto e poi i pregi e i contro di tiktok allora covid io la scorsa inizio della scorsa quarantena quindi marzo più o meno mi sono messo appena iniziata la quarantena a studiare tiktok che mi sono iscritto senza avere mettere il mio nome la mia foto solo guardandolo da fuori e capendo come funzionava un anno un anno sì tu in un anno hai fatto un milione di followers in un anno festeggiato un anno non hai anche ai miei spettatori cioè in neanche un anno un milione di foro va bene allora hai studi hai studiato mi piace penso che l'altro giorno mi hanno chiamato un'agenzia di di turismo no che ha che ha una rete di di viaggi perché chi fa filosofia può anche far formazione molti non lo sanno ma uno fa questo mestiere anche in tanti modi e parlavo di viaggi con dei tour operator e spiegavo loro che la prima cosa da fare è conoscere i social non tutti i social sono uguali e non su tutti i social si fa una cosa facile dire e la ferragni è bella e fortunata no no conosceva il social poi mille altre cose ma conosceva il social prego e sì ma guarda hai detto una cosa più giusta conoscere il social è l'unico modo per affrontarlo nel modo giusto perché andare a vista navigare a vista mi va bene due volte ti va bene cinque volte poi dopo un pochino ti perdi e è facile fare i numeri su tic toc c'è gente che arriva a centomila follower subito e poi però si blocca perché il concetto è proprio capire come creare il contenuto giusto che deve essere ludico ma deve avere un messaggio dentro deve essere il contenuto ma sempre con uno sfondo divertente comico rapido e la cosa che mi è risultato più difficile è condensare tutto in poco tempo che è una cosa che a me non piace fare però da lì però ci riesci io di esempio pietro sono sbarcato adesso preso una pausa perché io per il tipo di approccio che ho non riesco a stare in quelle tempistiche quando lo troverò quando troverò ci ritorno adesso sono lì giochicchio ma non investo tempo perché so che lì funziona per me funziona meno bene io mi trovo ancora bene su youtube e su instagram chiaramente no più di tempo tu prediligi 15 secondi o il minuto più o meno vedo che entrambe le cose fai il minuto però principalmente perché questo è un fattore poi educativo in realtà c'è uno sfondo pedagogico se si destruttura il livello di attenzione ai soli 15 secondi è un disastro è un disastro ci sono tantissime persone che tantissimi ragazzini che non hanno più una soglia dell'attenzione sufficiente proprio perché hanno 15 secondi 15 secondi 15 secondi e quindi dare dare più tempo più spazio i contenuti è fondamentale io comunque sto sempre sui 40 secondi minuto perché il massimo che ho e ci provo alla grande poi da lì da marzo è stato è stato un trade up pazzesco e non mi sa che continuare alla fine e non ti e comunque tu ti diverti sincero ti diverti ok allora da dire questa cosa nel senso che mi diverto tantissimo soprattutto mi piace tutte le parti positivi tiktok cioè il fatto che mi fanno conoscere un sacco di persone io comunque tutte le conoscenze tra virgolette famose che ho che parto da michelle unziker marco montemagno madame fede tutta questa gente qua ci conosciamo solo grazie al fatto che io ho iniziato a fare video su tiktok c'è poco da dire però ci sono le parti negative perché comunque che si voglia che non si voglia c'è un po la malattia dei numeri per cui se i tuoi video fanno sempre un milione quando un video non fa un milione ti rovina la giornata sei lì a dire porco boia mi sono impegnato ma per quello serve la filosofia alcuni filosofi veramente pietro perché il lavorare sulle emozioni sulle passioni sul ridare il giusto peso alle cose è fondamentale cioè alla fine quando incontri autori come picuro ma anche spinò ma tanti altri che ti riportano fatto che la centralità nella nella ricerca della felicità è il tuo rapportarti al mondo e a come questo mondo alla fine lo porti poi nella tua vita se quel mondo che porti ti domina e ti crea veramente passioni che a un certo punto ti lacerano bisogna avere il coraggio di rallentare è difficile è difficile perché il mezzo non è la rato per esempio tra la rato e un social c'è grazie di farla beh la rato ha determinato una rivoluzione agricola pertanto poi sociale economica per per secoli dunque grazie alla rivoluzione agricola della rata rivoluzione agricola l'umanità ha potuto svilupparsi così come il digital internet ma c'è una grande diversità però è questo nostro mezzo diventa più che mai fine la rato rimane un mezzo evidente è difficile una rato diventa diventi un fine invece il social o lo smartphone o la connessione diventa un fine comincia a vivere per esso e già comunque sei stato onesto capita anche a me ovviamente io come vedi non faccio montaggio lo sto vivendo io comunque un'età sono un po' più sette anni ho tre figli insegno da venti non sono un nato digitale nativo digitale arrivo dopo e mi permetto di dire per alcuni aspetti riesco a mantenere un distacco però a volte quando un video va bene sei contento va bene o bene diceva chissà cosa è un po' è un po' ti rimane diceva cosa ho sbagliato chissà come mai cioè vero ho anche gli haters io ne ho molto pochi perché viene premiato il fatto che un servizio penso che anche tu hai pochi odiatore vero per fortuna guarda sì perché comunque quando nel momento in cui capisco che io non mi sento un arrivato non mi sento un grande pianista ma faccio musica per i bambini alla fine non hanno molti appigli però ti dico una riflessione che ho fatto negli scorsi mesi è che io vivo ogni tanto questo sbalzo di umore a causa delle visualizzazioni delle interazioni tutto il resto però io ho una base emotiva gigantesca che è quella dei bambini per cui mi distacco cioè sto male un'oretta poi vado dai bambini e bom faccio scorpacciata di felicità mi chiedo tutti i miei colleghi che invece vivono il social come il loro fine come il loro punto di arrivo quanto invece è destabilizzante come cosa e quindi è come se gli tagliessero lo stipendio non so come dire quindi certo certo diventa veramente chi domina chi è chi domina ti faccio un po' di domande che sono tantissime benoardi chiede ma secondo voi tiktok include quegli atti comunicativi intesi principalmente a divertire indipendentemente da qualsiasi effetto strumentale che possa produrre cioè allora sì e no nel senso che in molti casi sì ed è grave in alcuni casi per fortuna no nel senso che ci sono spesso e volentieri video e personaggi che raggiungono la viralità e quindi la fama la fama sui social si determina solo dalla viralità purtroppo non è una fama consolidata come la televisione una fama esplosiva allora sui social spesso la viralità è data dalla comicità spiccia quindi trovo il fattore comico a scapito del fattore comunicativo del fattore e poi di contenuto e ce ne sono tanti per fortuna coloro che portano un contenuto e che utilizzano la comicità per passare un messaggio comunque riescono in molti casi ad emergere quindi è un po' bilanciata come cosa sicuramente c'è l'aspetto negativo molte persone molti account fanno ridere in modo spiccio senza anzi in alcuni casi andando con un filo controeducativo con tante parolacce a volte con delle bestemmie devo dire che spesso anche su tiktok c'è un prevalere di un trash volgare c'è veramente con tantissimo elementi di richiami sessuali che che non hanno nulla a fare con l'erotismo a volte neanche con la pornografia allora sono tante domande io te le pongo io fatele tutte pietro è un ragazzo vero ve lo dico le domande proprio sui cantanti io alcune le le giro tenete conto che molti sono eh suoi amici dico e dunque è di figlio che esprime un giudizio per chi doveva vincere Sanremo io non può proprio può anche dirlo però è amico di queste persone ti stanno chiedendo di tutto adesso arriverò cosa ne pensi d'achille lauro willy peyote sta andando tantissime domande sono molto contento io io te ne giro alcune cose diciamo e altre eccoci qua sei disposto nel mettere in secondo piano il successo per imparare ad arte lo strumento specifico in pianoforte domanda provocatoria anche oppure il tuo obiettivo è proprio il social e l'immediato sei disposto un po come una scuola medievale a rallentare per imparare l'arte oppure il social ti divora allora rispondo spero di distruggere la domanda nel modo più allora il mio obiettivo non sono i social minimamente e se me se me crolla tiktok sono felice come c'è vivo benissimo perché io ho i bambini io faccio musica con i bambini e quella è la mia vita quella è la mia base emotiva se io per carità se mi crolla tiktok mi rode un po il culo perché ci ho lavorato per un anno e quindi però non mi crolla niente nella vita quindi non è mettere da parte il successo per imparare lo strumento no perché io non sono un pianista non sono un esecutore da orchestra che deve essere perfetto in esecuzione io sono un musicista che parte in un altro modo quindi ho una determinata tecnica che mi sento di sviluppare col tempo non metterei da parte il successo per quello perché io sfrutto successo per passare un messaggio quindi se mettessi da parte il successo per dare spazio alla tecnica al pianoforte quindi ad imparare ad hoc uno strumento allora sacrificherei un megafono enorme che mi serve a passare un messaggio per poi imparare ad avere una tecnica che nel nel pratico in quello che faccio non mi serve quindi bravo pietro direi di anticipare in realtà quell'aspetto della tua attività perché rischiamo poi di dire faccio altro molti non la conoscono e poi giustamente le cose che poi sono più pop sono quelle che interessano chiaramente gli piace di manesti ci arriviamo questa parte qua qual è dunque questa grande attività io ho visto alcuni tuoi video qua di musicoterapia a regina margherita che è un ospedale per chi non fosse di torino che si occupa tendenzialmente di malattie infantile c'è un ospedale pediatrico in senso ampio poi con tutto anche se di reparte dedicata a malattie veramente molto 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 gravi che cosa fai cosa fa pietro moreno nella vita oltre a fare il tiktoker e il musicista sui social ogni tanto vado anche all'università che fa che facoltà fai che facoltà fai pietro comunicazione interculturale comunicazione interculturale ogni tanto vai anche all'università io faccio musica con i bambini adesso in ospedale per il covid sono obbligato a stare in ospedale per quanto amore che provi per l'ospedale in realtà il mio mondo è più all'estero io lavoro nelle missioni umanitarie quindi mi sposto per fare musica al di là del confine italiano e l'obiettivo è un po' quel in realtà l'obiettivo è vivere nelle missioni umanitarie creando corridoi umanitari poi la musica è uno strumento sia di intrattenimento che proprio di cura dei dei bambini molto molto grande quindi quando mi approccio i bambini spesso e volentieri lo faccio attraverso la musica quindi che sia in ospedale o che sia dall'altra parte del mondo c'è sempre una chitarra che mi accompagna ecco partiamo dall'estero cosa facevi prima del covid cioè che tipo di missioni cosa facevi concretamente perché alcuni stanno chiedendo ma cosa vuol dire sei dentro le missioni umanitarie di associazioni delle nazioni unite allora io lavoravo a nord della romania al confine con l'ucraina in una barattopoli che si chiama craica e insieme ai padri somaschi io non sono cattolico però lavoro molto con con i cattolici nelle missioni umanitarie appunto facendo musica con i bambini e facendo attivando i progetti educativi per la riabilitazione dell'infanzia poi mi sono aperto diverse basi attraverso altre associazioni c'è una mano per un sorriso c'è il mondo nel ruanda per cui cerchiamo sempre di portare per esempio in kenia con una mano per un sorriso abbiamo proprio l'idea negli anni di fondare una scuola di musica per i bambini io mi muovo nel mondo musica lavorando in missioni umanitarie che ovviamente hanno tutti gli ambiti sono medici infermieri architetti giocolieri e poi ci sono io che faccio musica però lavoro in questi spot in che zona sei stato ci chiedono hai già detto che kenia ucraina poi detto e poi adesso ho una base aperta al confine tra turchia e siria e andrò questo dove in una zona di di fatto una zona che è stata travolta no dalla guerra distrutta c'è hanno rovinato una parte di una cosa pietro cosa ti cosa ti danno cosa dai tuoi ragazzi evidente cosa ti danno i ragazzi a te ti rispondo in modo diverso da come si dovrebbe rispondere perché a me danno la voglia di tornare che è cioè per tornare in romania dove dove c'è una baraccopoli puzza cioè è brutto non è un bel luogo né per i bambini né per chi ci va a lavorare quindi per voler tornare lì vuol dire che c'è una spinta da parte dei bambini talmente forte da dirti cavolo devo farlo e quindi a me lasciano quello a me lasciano la voglia di tornare che è gigantesca come come cosa rispetto a a dirti mi lasciano i sorrisi mi lasciano i ringraziamenti o le emozioni mi lasciano la voglia di tornare e di continuare a farlo ti lasciano la voglia di tornare e vuol dire che porti con te un arricchi un arricchimento porti con te proprio un un arricchimento la zona più 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 devastata che trova la situazione più devastante al punto di vista qual è la romania perché la romania perché perché è un contrasto e all'interno dell'unione europea tutti si aspettano boh quindi beh dai si sta bene invece trovarsi immersi in una baraccopoli proprio ai europeo una baraccopoli dentro un paese europea europea una baraccopoli vera e propria una baraccopoli dove i bambini sono per la maggior parte orfani e chi non è orfano non vive una situazione decente bambini sotto fortissime dipendenze da droghe ovviamente droghe dei poveri quindi colle carburanti e quant'altro solventi bambini molto indirizzati verso la violenza bambini che subiscono violenze sessuali subiscono tratte sessuali tratte di organi cioè stiamo parlando di una realtà distopica che in realtà è più vicino quella baraccopoli piuttosto che la sicilia palermo per far capire ed è per quello che per me il posto più devastato perché è un contrasto gigantesco certo per dire vado in siria mi aspetto vado in ucraina qualcosa mi aspetto invece arrivo in quel luogo in romania dove quelle cose che leggendo non so nazionale o leggendo riviste vengono testimoniate tu le hai viste veramente questo discorso del dei bambini la colla le droghe carburanti è una realtà reale non è la l'ingingantimento no di narrazioni che vogliono un po stupire no no è una realtà reale magari lo fosse magari 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 lo fosse tante tante domande vado avanti a parte carlo ti chiede pensi che gli youtuber tipo lion se giusto abbiano conten contezza della responsabilità consapevolezza che hanno nei confronti dei ragazzini o questa cosa dei numeri della dipendenza è sfuggita un po di mano se vuoi rispondere pietro ovviamente voglio rispondere non riferendomi a quello youtuber in particolare perché purtroppo non lo conosco abbastanza bene parlerei con poca cognizione di causa però in modo ampio posso rispondere benissimo sì nel senso che ci sono una 25 per cento di youtuber e con youtuber includo tutti coloro che creano contenuti sui social così faccio più facili termini quindi di creator che hanno una grande consapevolezza e che sanno indirizzare il messaggio giusto al pubblico giusto ci sono altri che un po affascinati dai numeri un po proprio perché seguono una filosofia di vita che secondo me è giusta per loro ma è sbagliata da portare su una piattaforma così fruibile dei ragazzini che invece va proprio contro un sistema educativo già bacato e malato cioè quello italiano e quindi si portano contenuti pieni di parolacce pieni di bestemmie mi viene da fare un esempio positivo i me contro te che sono un canale di youtube gigantemente criticato secondo me sono i più bravi youtuber italiani nel senso che loro fanno video per bambini sono la mere visione fanno video per bambini piccoli e la gente li critica perché invece pensa che stia creando contenuti per loro fanno video per bambini piccoli perfetti perfettamente strutturati cioè se io avessi un figlio adesso piccoli tre quattro cinque anni e dovessi metterlo davanti a youtube metterei davanti ai me contro te perché sanno che cosa fare mentre se lo lasciassi libero di andare su youtube finirebbe in canali dove la prima cosa che sente è bestemmie 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 e sdoganare la bestemmia per esempio è sbagliato per mille motivi quindi purtroppo non c'è sempre consapevolezza del fattore è vero è vero tra l'altro poi quei canali lì avranno una vita breve me contro te va avanti perché c'è contenuto discorso che nei social non puoi prescindere dal contenuto e questo è una cosa che c'è anche alcuni sotto sotto sottovaluto iniziamo carlo per la domanda su tante altre ovviamente si pietro sei d'esempio vabbè delle volte irene grazie per cosa guarda che domanda gabriele vecchiet hai un film un libro qualsiasi cosa legata all'arte che ti ha cambiato la vita guardami allora mio padre disegna storie dell'arte quindi ho vissuto in questo in questo mondo al 100% mi guardavo intorno perché volevo presentarti un libro vabbè te ne presento uno simile cioè in realtà è il prequel che palino prosciutto di charles bukowski in realtà il libro io tengo sempre in borsa il factotum di charles bukowski perché questi libri qua a me hanno cambiato tantissimo il modo di leggere e di vedere l'arte perché parlano di un uomo che l'arte c'è là dentro e che si è distrutto la vita in altri modi e quindi secondo me è proprio quella l'arte cioè l'arte è il ovunque tu sia in qualunque situazione tu sia finito comunque hai sempre quella lucina dentro che può emergere in qualsiasi tale bello bello è un bello modo anche di vivere l'arte sul cui dicono ma la bestemmia è un'opinione sì no ma non stiamo non stiamo parlando che devi essere sanzionato per la bestemmia anch'io non voglio che siano più le leggi che ti facciano pagare però però se io su youtube bestemmio qualunque divinità volgare bestemmi in senso ampio che il termine è chiaramente un creare contenuto che si fonda di fatto su sulla forma di di violenza come dice l'educazione musicale nelle scuole italiane qual è lo stato della tanto c'è un mio mio che ti chiede se conosci il tuo omonimo a the race against the machine e di aglio slayton morello ovviamente grande max allora della scuola che mi dici lo stato dell'arte della musica a scuola puoi andare duro puoi andare duro puoi andare duro allora non si fa bene non si fa abbastanza la musica soprattutto la musica soprattutto cioè siamo in una situazione in cui al liceo delle scienze umane è stata tolta la musica e c'era ed è stata eliminata la musica secondo me non occhio facciamo una differenza enorme tra strumento e musica studiare uno strumento è una scelta è un conto uno sceglie di suonare e se non si suona si è in persone meravigliose uguale invece studiare musica è importante tanto quanto studiare la filosofia secondo me perché studiare la storia e con storia non intendo solo le guerre e i papi che è la storia io non la faccio così però studiare la storia storia delle religioni quando si fa religione a scuola nella maggior parte ovvio non voglio generalizzare non voglio passare messaggi sbagliati però nella maggior parte si fa catechismo praticamente quando in realtà la religione dovrebbe essere storia della religione musica dovrebbe essere storia della musica ma perché questo perché noi ci lamentiamo che i ragazzini ascoltano solo trap ma poi perché lo fanno perché non hanno mai ricevuto un avvicinamento alla musica diverso cioè nessuno ha mai spiegato che mozart oggi suonerebbe con la cresta punk e suonerebbe con i piedi il pianoforte per sperimentare è vero è vero è vero si capisce che mozart era un matto e oggi sarebbe su tiktok mozart sarebbe su tiktok di sicuro e quindi se non si fa qualche anno scrivi sto libro hai già il titolo mozart sarebbe su tiktok hai già il titolo guarda io mi chiami ti scrivo la prefazione su e ben volentieri un due paginette di prefazione te la faccio te la faccio te la faccio volentieri esiste ancora il trionfo del flauto guarda il rene te lo chiede il flauto è il flauto occhio io sono molto a favore del flauto cioè allora il flauto che è soprannominato da tutti i genitori italiani smetti da risuonare altrimenti ti uccido che è proprio il nome dello strumento tecnico è uno strumento perfetto per l'avvicinamento alla musica perché è uno strumento che da un feedback immediato qualunque cosa tu faccia quella fare fa un suono quindi serve molto ad avvicinare un ragazzino al mondo della musica prodotta non però alla storia della musica che ancora un concetto che le medie non fanno non ti insegnano ad apprezzare la musica classica che è una musica spettacolare è quello è quello è quello è quello guarda che c'è un altro problema ma ma gioco gioco facile con te perché il papà te l'avrà detto come insegnano storia dell'arte certi insegnanti la uccidono i ragazzi non l'apprezzano dicono l'arte questa roba qua chiuso l'arte non mi interessa adesso io mi permetto di dire una cosa che da 21 anni non dovrei permettermi di dire però ormai abbiamo sdoganato tante cose quindi vado a vota libera molti insegnanti italiani il motivo per cui la scuola italiana uno dei motivi per cui la scuola italiana ha dei problemi è perché molti insegnanti sono persone che ambivano a fare un determinato mestiere e per ripiego hanno fatto gli insegnanti allora allora pietro sai che andrea carnevale di del collegio sto ospite da me eh due mesi fa mi ha detto per quanto riguarda la musica la tua e storia dell'arte la stessa cosa se invece probabilmente per italiano ma anche filosofia molti avevano messo quella professione tra quelle fattibili molti erano in accademia non sono riusciti a fare delle cose vanno insegnare facevo la musica e questo è vissuto come un declassamento un insuccesso proprio che ti porti dietro durante la invece tu devi avere mai queste ore con i ragazzi ma devi entrare in classe vuoi spaccare sto mondo porca miseria insegnare a loro certo che senti in classe e hai lo zaino zavorrato dal vorrei essere dall'altra parte ma sono qua ogni processo di apprendimento salta perché già è già è già è già fallato all'inizio il processo di apprendimento questo è veramente è veramente mi stanno divertendo mi piacciono il pubblico di barba si imposa è un pubblico veramente a chi ti ispiri hai dei maestri nensi nel frattempo ti abbraccio tanto nensi hai dei maestri che ti ispiri ne ho citato uno cioè il mozart ma fuori dalla convenzione comune del bravo musicista classico ma proprio di quell'irriverente folle che che grazie al fatto che è scampato al colera ha fatto un disastro nella musica e io sono grande amante della musica italiana grande amante di andrea grande amante di buccini per fortuna sono cresciuto di una famiglia che me le ha messe in vena queste musiche quindi io sono se devo parlare di maestri in campo della composizione nino rota esattamente come morricone io veramente ho avuto la fortuna di conoscere moltissima gente che ha lavorato nell'orchestra di morricone e lì siamo siamo ad un altro livello assolutamente bene bene tra l'altro si chiedoscura all'amico alessandro carnevale che ho di nuovo ribattizzato andrea perché era una era un calciatore degli anni 80 90 allora quando dico e cominciamo con la dico carnevale tag viene da dire appunto andrea luca lamari domandona domandona che parte con un'asserzione molto forte già discutibile ma dimmi un po tu cosa ne pensi cosa ne pensi pietro del fatto che la musica di oggi non regga il confronto a quella di ieri per esempio viene in mente jen simmons che sostiene che il rock sia morto io allora di nuovo sarò c'è fuori dal coro però fate cazzate di cui no nel senso che non è vero che la musica di oggi non rende non regge il confronto con quella di ieri è semplicemente che esattamente come dei queen che tutti oggi noi idolatriamo veniva detta la stessa identica cosa cioè non suonate come suonavano sarà una cosa che si riproduce all'infinito è una è un cane che si morde la coda e col moderno ci sarà sempre la persona che dice quelli prima la facevano meglio io non sputo sui queen per carità musica veramente che è nel mio cuore ma la musica di oggi se si prende quella bella quella fatta bene quella con uno studio con un messaggio altro che reggere il confronto tiene tiene il filo al cento per cento eh sì è vero che gli anni settanta sono stati un po un'epoca d'oro questo possiamo dirlo perché nello stesso decennio hai dei gruppi pazzeschi questo è vero perché da da metà anni sessanta fino anni settanta chiaramente le zeppe in più in floy la lista è lunga in italia il banco del mutuo soccorso tutta serie cose sono eh eh irripetibili forse per nel tempo così così breve però oggi ci sono delle musicisti chiaramente la musica tecnico sono bravissimi io a volte dico eh io amo di più Guccini ovviamente perché la mia storia di Andrè ma quando cito Bruno Rissas non sto penso bestemmiando dicendo che rimarrà come un grande cantautore poi ovvio io preferisco Guccini però non è che stiamo dicendo da una parte c'è il diavolo l'altra parte l'acqua santa cioè cose imparagonabili assolutamente no è un cantautore che ha dei testi veramente molto belli veniamo al performer pensa che io oggi ho ricevuto anche su mia pagina Instagram questa domanda me l'ha chiesta anche i miei allievi in classe professore cosa ne pensi della musica e della performance perché è un musica performer ovviamente di Achille Lauro Pietro io te la faccio se vuoi rispondere se puoi allora allora parlo togliendo ogni condizione di vi conoscete voi vi conoscete molto poco per fortuna nel senso di per fortuna per questa domanda io avrei piacere di passare più tempo con con Lauro ci conosciamo molto poco siamo interfacciati un po a Sanremo per forza di cose ma ci conosciamo davvero poco allora dal punto di vista musicale solo musicale a me Achille Lauro non ha mai convinto ma perché ha una musica criptica ha una musica più complicata ha una musica per cui il messaggio è velato dietro parole difficili da comprendere difficili proprio da da decriptare per come sono cantate e sinceramente non lo trovo un bravo cantante cioè che se lo metti a fare una un pezzo complicato dal punto di vista vocale secondo me non lo regge bene come altri abbiamo tolto la critica abbiamo tolto la parte positiva che fa di lui un bravissimo musicista e un bravissimo performer ancora di più è il fatto che il messaggio di Achille Lauro è dieci gradini sopra al messaggio di un sacco di cantanti che invece sono spettacolari spettacolari cioè mi vien da fare un paragone veramente azzardato non me ne voglia nessuno a questo Sanremo abbiamo avuto Orietta Berti e Achille Lauro Orietta Berti voce indecchia veramente voce impressionante ancora adesso 80 anni spaziale sempre stata una voce divina e ha ridimostrato di esserlo una delle più brave cantanti mai state in Italia però dal punto di vista invece del messaggio niente da dire Achille Lauro è un pianeta sopra quindi la musica di Achille Lauro è fortissima perché dietro ha un ampio messaggio incredibile poi lui è un performer poi lui è un performer cioè questi quadri che ha proposto erano erano in incredibile c'erano tante altre domande i tuoi amici invece Maneskin i nazi skin del reto aperti i Maneskin sono non è una musica che io ascolto partiamo da questo sono bravissimi hanno spaccato a Sanremo insieme a Manuel hanno veramente fatto scintille sono bravissimi perché arrivano a un pubblico molto vasto molto ampio e sono paragonabili da questo punto di vista a ultimo ultimo musicista criticatissimo perché fa musica che tutti definiscono passate mille virgolette per ragazzine secondo me se lui è arrivato fin là un motivo ci sarà cioè fanno musica fatta bene bella fruibilissima che arriva a tutti la musica dei Maneskin te la metti e la ascolti io li trovo veramente bravi vittoria di Sanremo meritatissima vittoria meritatissima dici eh sento la polemica tra poco giorni farò un video di commento un po' del loro testo sulle pagine facebook di insegnanti si è interpretato questo testo come una mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti è una mancanza di rispetto nei confronti di insegnanti gigantesca molto molto difficile da contestualizzare perché però io mi sono detto questa cosa Pietro se tu nella tua vita hai incontrato gli insegnanti che ti hanno fatto arrabbiare punto o ti hanno fatto incazzare tu sarai anche libero di poterlo cantare cioè in un certo punto la io la lesa maestà non la sopporto non la sopporto nei confronti del re di Spagna dunque la massima solidità al rapper spagnolo firmato con assalti frontali murubuti in occhi tutta se dire per l'appello per l'immediata scarcerazione per quanto possa contare la voce di barbastrofia ma essendo eh così vicino ai studenti conta anche un pochettino la mia voce dunque non ce ne sa maestà per nessuno hm posso prendere in giro Renzi Salvini Zingaretti ehm il papa o o o gli insegnanti in una frase certo stai zitti buoni e perché probabilmente quella frase è quella giustamente che hanno sempre detto degli insegnanti hanno detto a loro e loro questa volta l'hanno voluto tirare fuori fa parte della dialettica generazionale la dialettica generazionale cioè non offendiamoci colleghi prendiamo e e e dialetticamente andiamo avanti rispondiamo cambiamo cioè musicalmente come li trovi musicalmente tecnicamente allora ehm hanno dentro dei dei canoni pazzeschi cioè Damiano il cantante il frontman ha una voce anche se non è spettacolare cioè lì lo metti a cantare qualcosa la canta benissimo molto la ragazza è bassista vero io l'ho trovata brava ma anche migliorata bravissima dal punto di vista compositivo cioè è brava a tirar fuori delle note che si sentono poco ma che in realtà arricchiscono molto e il chitarrista è molto bravo dal punto di vista tecnico quindi separando gli elementi comunque si hanno degli elementi che funzionano insieme funzionano i maneskin scomposti funzionerebbero meno bene loro hanno una sinergia sul palco giustamente la mia amica viviana ci ricorda finalmente rock a sanremo in realtà non è vero certo c'erano altri rockers in egrita e vasco brava viviana vasco chiaramente è il grande boss però è un rock posso dire viviana allora in egrita ci sta in egrita vanessi sta il vasco il rock il rock di vasco è ancora mi sembra un'altra dimensione poi ha dei pezzi con le chitarre ruggenti anche vasco rossi quando aveva quei grandi chitarristi con lui però è un rock in egrita hai hai ragione e che loro hanno vinto cioè i maneskin maneskin veramente l'accento sulla pietro maneskin che i maneskin hanno vinto e e hanno portato sicuramente delle 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 schitarrate importanti sul 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 teatro aristo willie peyote come se la pensi c'era la domanda prima è il nostro concittadino è il nostro concittadino sì 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 io penso che lui sia allora di nuovo riproponiamo un po' le stesse cose dal punto di vista eh sonoro e quindi di di quanto è bravo a cantare meno bravo di altri per quanto comunque è arrivato fino a sanremo motivo c'è però di nuovo cavolo che messaggi che tira fuori cavolo che testa molto molto provocatori ma anche francesca madame mia amica del cuore ha tirato fuori un testo che una provocazione continua è pazzesco pazzesco bene 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 c'è chi ci ricorda ma il rock è trasgressione non dimentichiamolo dunque vale anche ma si può essere trasgressivi a sanremo si deve essere trasgressivi a sanremo no non si può in realtà non si può perché viviamo adesso rispondimi pensaci beh dammi una vera risposta il contenitore cambia il contenuto sì o no allora allora quest'anno l'abbiamo un po' sdoganata questa cosa tendenzialmente alla grande viviamo in un in un'epoca dove l'eccessivo politically correct ha veramente smontato le balle e ha veramente raggiunto dei livelli tali per cui non si potrebbe essere trasgressivi a sanremo bisognerebbe seguire un po' quella vena sempre romantica sempre buona che c'è stata sanremo quando in realtà se sanremo lo si prende per quello che dovrebbe essere e non per quello che è allora sanremo dovrebbe essere il festival della musica e il festival in realtà poi dello show del del business della musica molto più che della musica in sé se lo prendiamo per quello che dovrebbe essere cavolo ci dovrebbe essere solo trasgressione perché la musica è una la musica è prendere i canoni classici prendere i canoni che abbiamo c'è cavolo quando uno scrive punk rock utilizza d'ora mi fa sola si do che lo utilizzava vivaldi cioè prendiamo i canoni classici e li destrutturiamo li utilizziamo in un altro modo e quello è quello che dovrebbe essere quello che in realtà purtroppo è anche ci sono dei cancelli è una gabbia beh condivido tutto pietro perché io sono rock dentro anche sono più vecchio di te la sto da sto cantando io per ringiovanire c'è una domanda cripti ma io penso che chiara bertone tu la conosca perché c'è pietro ma dov'è il vicino di sopra ridendo chiaro chiara bertone sulla mia carissima lieva che è stata maturata non ero in commissione io però scorso anno e ti dice pietro ma dov'è il vicino di sopra ridendo c'è qualcosa di segreto probabilmente va bene va bene è un trend su tip tock di miei video che va molto forti il mio vicino di sopra mi urla addosso perché io suono tardi la sera ecco perché ecco 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 perché anche i blu vertigo ci ricordo sono andati a sanremo eh Vasco Rossi ha finito quando ha dato via Massimo Riva che ognuno dei suoi giudizi ci mancherebbe qui vanno a toccare ah beh Elite Fibra è vero eh io i primi Elite Fibra ragazzi io ho i brividi quando penso i primi album di Elite Fibra penso che lì per me il rock italiano ha raggiunto una delle massime delle massime espressioni l'album Tex è qualcosa di a me piace di Ramon sì sì Max io io sono un amante dei Ramos proprio perché i Ramos fanno proprio divertire oltretutto oltretutto Vasco eliminato subito gli After Hours ricorda Nancy sì 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 40 anni per accettare il rock in Italia Ivan Graziani ma state citando veramente dei giganti ma c'è una domanda adesso ho perso ma me la me la dovrei ehm ricordare oppure no eccola qua l'importante era non è l'Ittiba ma l'ho persa eh anche la killer ha rivoluzionato Sanremo ah eccolo qua perché è un cantante che io amo e ti chiedono di caparezza io ma lascio a te allora eh a parte qui io e Caparezza abbiamo una cosa in comune ovvero l'acufene quindi lo compatisco ah 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 dall'ultimo album Price lui ha parlato di questo suo problema soltanto tutte le cose cagate eh Caparezza eh è un è un ma è una montagna è una ma è che secondo te perché Pietro quando fai sette otto album così non quando ne fai uno ma quando tu hai 6-7 album così e lì la differenza è grande Pietro Caparezza non ha fatto un brano conosciuto che dice ha spaccato con quello e poi vive di rendita Caparezza ha fatto una discografia di oro e di platino cioè veramente è una montagna del rap ovviamente è una montagna di quel settore ma dice delle cose con una violenza con una potenza poi lui ha un'ironia ha saputo cantare l'Italia cambiando si è esposto in quest'Italia un po' iniava politicamente ha preso delle posizioni su dei grandi tempi che fosse G8, che fosse la Tav che fosse la mafia assolutamente quando ha tirato fuori viene a ballare in Puglia che è il brano più conosciuto che va nelle discoteche d'Italia quando viene a ballare in Puglia parla del disastro industriale cioè non parla di è vero è vero c'era una domanda sulla musica che è proprio tecnica tecnica pura un po' come la Fusion c'era una domanda bella devo andare a recuperarla una domanda cosa ne pensai della musica nel momento in cui è soltanto musica e non parole e cosa ne pensavi della musica Fusion eccola eccola cosa ne pensi della musica prettamente strumentale che punta all'esuberanza tecnica come la Fusion allora sono due cose che si possono distinguere io faccio musica prettamente strumentale così rispondo già alla domanda cioè i miei brani che sono usciti che usciranno sono solo strumento io suono pianoforte poi metto insieme scrivo anche per violoncello quindi metto insieme più strumenti però io faccio musica senza testo solo strumentale e quindi la amo la amo tantissimo mentre per l'esuberanza tecnica che secondo me è una cosa che si può distinguere perché la mia musica prettamente strumentale è per esempio anche quella di Einaudi per dirtene un altro minimale o di Jan Tirschen sono tutta gente che non ha mostrato una tecnica incredibile quando suonava perché sono brani molto eseguibili l'esuberanza della tecnica quindi la sovra alimentazione della tecnica è un'altra cosa è un altro modo di fare musica secondo me altrettanto bello che però va a distinguersi un po' dalla musica che è solo strumentale per esempio uno da citare in merito un genio il buon Paganini Paganini è stato un genio della composizione per archi per violino in particolare che mostrava la sua tecnica spiazzante in ogni pezzo sono pezzi complici i capricci sono pezzi quasi impossibili da eseguire nel modo corretto e quella è un'esuberanza tecnica quindi è un'esuberanza tecnica a volte anche quando è manieristica può essere apprezzata poi se è un manierismo ripetuto chiaramente è stanca ma vale per qualsiasi arte anche la pittura manieristica è un po' stanca i registi a me Nolan gigante a volte è stanca perché vuole farti vedere quanto è bravo tecnicamente e a volte la storia ne risente a favore di un manierismo estetico però sono poi giudizi personali anche Tarantino nei suoi capolavori il mio registro preferito vivente ha delle sequenze a volte che vuole farti vedere quanto è bravo e dunque diventa un po' sfoggio tecnico di Madame allora questa è carina anche dei Maneschi ci dice dei Maneschi Max Stefano i Maneschi sono innovativi solo nel panorama italiano perché chi ascolta musica interazione sono strasentiti ti faccio la domanda ne colgo l'occasione Pietro com'è la storia dell'arte della musica in Italia siamo ancora proprio provincialotti o c'è qualcosa di non provincialotto nella nostra Italia siamo coglioni perché noi abbiamo siamo coglioni è bellissima altro titolo del tuo prossimo libro il primo mi hanno detto su Mozart Rock e poi siamo coglioni noi siamo coglioni perché abbiamo un patrimonio artistico e musicale passato talmente grande che potremmo essere i pionieri ovunque noi potremmo essere stati i pionieri del punk del metal del rap della trap e non lo siamo arriviamo sempre dopo gli altri perché siamo un po' coglioni e non sfruttiamo perché come ho detto prima per fare il nuovo serve avere il vecchio ed è pazzesco ed è pazzesco noi esattamente come dice Max andiamo a prendere il dopo cioè i Maneschi è vero è assolutamente vero che nel resto del mondo sono arrivati prima i Maneschi e questa è la cosa grave è proprio il fatto che noi potremmo permetterci di arrivare molto prima e non lo facciamo è vero perché si pensi in Cana degli Stati Uniti la musica di Maneschi c'è già anche nel nord nel nord Europa giusto giusto ci ricorda dottor Gregory i Radiohead con il live Radiohead con il computer ecco quando parlavamo della musica di oggi che era nel passo di quella dei tempi ma questo questo album è superiore a quello di Queen perché dopodiché la musica di Queen siamo già qui tutti a ballare a cantare ma lì è un altro discorso ancora perché qui sono poi una costruzione di immaginario immaginario incredibile allora ci sono due domande di due gruppi diversi però che all'inizio erano accumunati poi hanno produttore storie diverse e le storie tese e gli schiantos che sono chiaramente gli schiantos sono rimasti poi nella musica più rock demenziale io tra l'altro li amavo tantissimo Elio poi ha fatto un'evoluzione ed è diventato effettivamente poi musica molto più pop e commerciale gli schiantos con quello che dicevano e come lo dicevano non potevano diventare troppo commerciali perché le loro canzoni non le puoi passare in radio banalmente le canzoni di schiantos è vero il problema è che del nostro pubblico di adesso tutti conoscono facilmente Elio e le storie tese rispetto agli schiantos ma perché? perché la musica degli schiantos essendo più irriverente più colma di cose più troppo censurabili è perfetta perché è una musica di denuncia è una musica che io adoro ma è una musica meno vendibile quindi se si posta a fare la buona musica si è schiantos se si punta a fare buona musica con l'intento anche di vendere di più guarda Ed Sheeran Ed Sheeran secondo me è il miglior compositore forse il migliore è troppo però uno tra i migliori compositori del ventunesimo secolo Ed Sheeran ha fatto delle musiche dei testi veramente inarrivabili poi ha fatto Shape of You che è stato un fenomeno pop un fenomeno pop pop nel senso di non della musica del popolo ma della musica come posso dirlo commerciale e Shape of You infatti non è una bella canzone però perché questo perché comunque ha un un tetto ha raggiunto un tetto di Sheeran per cui può permettersi di fare la sua musica grazie al fatto che ha fatto Shape of You è un po' esatto collega TikTok questo discorso io posso parlare dei bambini posso parlare di musicoterapia posso fare videoserie perché ho costruito una base di videoludici che mi hanno portato scusa Pietro se torno su questa questione stiamo parlando io del 74 tu del 99 ma vorrei ricordare a chi sta ascoltando anche e soprattutto se ci sono se c'è ancora mia figlia se ci sono ancora i suoi compagni o compagni ragazzi e ragazze delle medie tu sai che alle medie sei molto seguito anche in quella fascia d'età dunque dagli undici ai quindici anni vorrei ricordare che Pietro Morello sta discutendo di musica e di gruppi lontanissimi dal suo vissuto perché dietro c'è la curiosità e lo studio io ti assicuro che gli schianto dicono ma questi qui non ma comunque gli sa per nome ma non li avrà mai invece no cioè i contenuti dietro TikTok i contenuti sono sempre proposti se dietro c'è un lavoro di conoscenza tu Pietro la musica la conosci tu l'ascolti questo è un messaggio che vuoi lasciare ai ragazzi che seguono Barbara Sofia perché perché uomini e donne il tronista che non sa fare nulla non ha futuro non ha futuro non ha futuro invece si può essere sui social popolari ma si può avere un futuro se studi se studi se ti formi è un paese che a volte svaluta la dimensione studio formazione prima ti ho citato la Ferragni va bene posso citare tanti altri c'è gente che ci lavora e studia non è semplicemente accendo la telecamera dico due cretinate quello che mi passa per la testa perché a lungo andare una volta due o tre quattro cadi poi cadi poi non rimane niente io su questa cosa veramente Pietro ci siamo ci c'è mi devo dire su tale vieni qua è qua mio figlio che sta dicendo che stanno ancora ascoltando è così è così è così e di Elio cosa pensi invece allora fino a quattro cinque anni fa io lo ascoltavo mentre facevo la doccia cioè io lo adoravo ha detto delle cose pazzesche mi è un pochino caduto nel tempo ma solo ma adesso per carità non mi permetterei mai io ho tantissima stima di Elio quando ha cominciato a fare il giudice nelle trasmissioni perché ha cominciato a demenzializzare se stesso in un modo diverso rispetto a come faceva con la musica il che mi dispiace un po' perché si vede che lo fa anche per necessità poi poi io stima assoluta credo che farei la stessa identica cosa non sono superiore a lui minimamente credo che mi fanno lo stesso giro però se devo parlarne col seno di poi e un pochino con uno sguardo esterno così capisco allora ti faccio la domanda tu lo faresti il giudice? sì 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 anche lo farei conscio del fatto che ho meno competenze di altri conscio del fatto che lo farei più per show che per reale giudizio cioè mi mando a fare giudizio X Factor io non sono così capace da poterlo fare bene so che l'ister è molto più show e lo farei per come abbiamo detto all'inizio per avere più pubblico più pubblico vuol dire più possibili poi chiaramente con con tutta una serie di limiti che ti darai anche tu dunque ha fatto bene Samuel di Subsonica andare a fare il giudice? sì 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 ha fatto bene i puristi gli hanno detto non devi andare però ha fatto bene e essere visto per qualsiasi motivo uno può scegliere la fama per i soldi per la notorietà per per le belle donne per l'arte per passare un messaggio se il tuo obiettivo è la fama allora se il tuo obiettivo è la fama fama a tutti i costi no ovviamente no no fama a tutti i costi no fama per per fare qualcosa la fama è un mezzo il fine è un altro cioè appunto il fine sono i soldi per dire una una qualunque molto comune finalità perfetto la fama può essere legata ai soldi e infine sono quelle la fama è un mezzo eh Daniele ha una fama diversa ci sta mancheremo anche noi non stiamo esaltando io non lo sto esaltando figurate che lo guardo pochissimo ma non per snobbismo perché so che lì non è il mio genere musicale quest'anno ho acceso qualche volta perché sapevo che c'erano personaggi un po' bizzarri testi banali a Sanremo musicherò a minestra riscaldata ma ci sta se tu si è abituato ad altri festival ad altre aperture internazionali come ti dicevamo già prima non è a Sanremo se uno vuole scoprire il rock o le novità sul rock che devi ascoltare ma Pietro l'ha detto in tutte le lingue l'ha detto non è lì che vai a scoprire prima ti hanno chiesto cosa pensavi di Madame ma l'avevi già detto ok e dunque ti eri già ti eri già detto Danilo invece ma Danilo tutte le sere viene e si arrabbia con me Danilo poi mi dice che sei no 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 parli bene di musica e poi ti andresti a mischiare con quella immondizia vabbè è un'opinione è giusto è giusto ed è proprio lì ed è proprio lì la cosa bella devi capire perché ti vai a mischiare con l'immondizia infatti infatti io a qualche amico ho raccontato adesso non faccio nomi e cognomi ma la scorsa settimana un programma di Mediaset mi ha contattato e io ho fatto un calcolo costi benefici e non sono andato ma l'ho fatto perché penso che i libri che scrivo i festival i rapporti che ho in quella in quella trasmissione non avrebbero giovato a quello che io voglio fare a quel messaggio che porto avanti e non mi sarei divertito mi avesse invitato chiaramente Corrado Auge sarai tre sarei andato ovviamente ma quella trasmissione dei Mediaset non sono andato e ripeto non perché era Mediaset tra l'altro perché posso anche scegliere la qualità di Mediaset ma perché ho valutato che non era non era non era appunto cosa per me siamo un'ora e diciotto e va ancora a me una decina di minuti per dirci ancora alcune cose tra l'altro lunedì esce il tuo pezzo adesso ne parliamo gli U2 io li ho amati gli U2 tantissimo poi negli ultimi anni gli ultimi anni gli ultimi corsi di questi 15 anni mi sono un po' allontanato che peso hanno avuto sullo tempo? ma allora la domanda chiede se hanno influenzato la scena musicale negli ultimi due decenni no allora gli U2 hanno iniziato a fare musica nel 76 se non sbaglio sì 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 prima l'album sì qualcosa del genere gli anni 80 sono gli anni loro il decennio loro dell'ora rock quando sporgono i pezzi fantasmi come Boy come War Boy War e The Just Rotary quei tre album sono veramente storia quindi sono la storia della musica negli ultimi due decenni ni perché perché c'è altro perché c'è un'innovazione continua quindi hanno influenzato meno la scena musicale negli ultimi due decenni invece negli anni 80 erano madonna l'hanno cambiata la scena musicale Gabriele ci vedrebbe bene a Propaganda Live a Propaganda Live andremo chiaramente di corsa io è una delle poche trasmissioni veramente dal mio punto di qualità ma io sono cresciuto in un'Italia in cui c'era la tv delle ragazze ti ricordi Max Stefano avanzi e ce n'erano trasmissioni di qualità oggi c'è un po' un po' un po' carenza e sicuramente Propaganda Live si 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 distingue cosa ne pensi io non lo conosco sono ignorante di Eugenio in Via di Gioia ah no presente sì 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 ok 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 sì sì cosa ne pensi ti piace? io con l'Eugenio ci gioco a scacchi scopriamo questi truschetti amici di scacchi ma allora vabbè tolto il fatto che siamo grandi amici proprio io e lui però a me piace molto quel tipo di musica molto come i pinguinitattici nucleari molto una musica molto più frivola ma comunque piena di contenuto e no no mi piace tantissimo è una musica molto fruibile secondo me più fruibile di Madame per dire per quanto bene io possa volere a Madame Francesca fa dei testi che sono da ascoltare quindi metterli e cazzo aspetta che lo ascolto bene lo decifro e poi ne parlo mentre Eugenio in Via di Gioia i pinguini e tutta questa gente qua anche Elio da Solietese quando le faceva sono canzoni più frivole e quindi fruibili in qualunque situazione beh Depeche Mode è brividi non gliela offro neanche la domanda su Depeche Mode perché parliamo di una saudino rifiuta l'invito a Medes ma viene a San Teodoro comune di mille abitanti sono venuto quest'estate vedi vedi sono proprio un uomo un uomo fuori dal tempo guarda mia figlia eccola qua poi più te la devo far conoscere è una tua fans ecco via viva i pinguini tattici nucleari anche qua le zeppe i Depeche Mode non passo le faccio vedere ma non le citiamo neanche perché parliamo ovviamente dei giganti senti torniamo in questa ultima parte un po' sulla musica che spopola adesso allora il rap è stata la grande rivoluzione perché poi il rap ha iniziato tutto gli anni 90 2000 non ci fosse stato il rap la chiamala la chiamala pure se ti è chiuso saluta Pietro il rap è stata la grande rivoluzione perché ha cambiato completamente la musica secondo te la trap è un'evoluzione del rap probabilmente sì ma in che direzione va e quali sono adesso Pietro i principali secondo te trappisti italiani trapper italiani che hanno delle cose veramente da dire allora la trap come evoluzione del rap è un argomento per cui potremmo parlare per quattro ore ed è difficilissimo molto vado tornerai vero al prossimo torni vero se poi diventi giudice a X-Factor vabbè mi metterò in coda ma mi inviti poi vengo a X-Factor a cantare io canto piemontesina bella vengo di casa in realtà no comunque appunto trap rap allora diciamo di sì ma nel senso che sì la trap ha dei canoni del rap che sono legati al modo di esporre quindi ha una parlata molto veloce molto scandita tante parole all'overbeat tante parole in pochi minuti però poi è tutta un'altra cosa la trap utilizza dei sistemi elettronici di controllo della voce il classico autotune che conoscono tutti e di creazione delle basi e poi le basi sono molto diverse quindi sono due mondi ancora distinti trap e rap e nei trapper italiani che hanno qualcosa da dire e che si possono inserire io metto Gali perché Gali è pazzesco io Gali trovo che faccia dei testi vai a guardare Ninna Nanna Ninna Nanna parla della sua vita e Cara Italia Cara Italia è una denuncia Cara Italia è bello io con Sfera ho un rapporto di amore e odio perché trovo che nei suoi testi ci sia una sbagliatissima esaltazione della Sfera del denaro della Sfera della sessualità in modo quasi dominante la ragazza viene spesso ridotta a bitch che io trovo molto sbagliato mamma mia io mi incavo anche se poi ho scoperto che molte ragazze si autochiamano bitch in quel modo ehi bitch ci vediamo è molto americano come cosa è una derivazione molto americana e a me non piace c'è proprio io trovo che i valori del femminismo siano stati troppo combattuti per essere distrutti in questo modo con una parola però tolto questo fa dei testi anche lui molto 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 ascoltabili non inserisco per esempio a differenza di come fanno in molti Madame nella Trap è vero che alcune sue basi si avvicinano alla sfera Trap ma come dire la Trap non esiste cioè anche questo è un altro libro la Trap non esiste perché in realtà non ha dei confini l'autotune non è un confine della Trap perché anche Ed Sheeran Arianna Grande utilizzano l'autotune anche Orietta Verde ha utilizzato l'autotune a Sanremo cioè nel senso ma Max è ancora lui suona in un gruppo Max Stefano e ama ancora sono ancora quelli che hanno la chitarra ruggente caro Pietro è un genio della musica italiana è uno dei compositore folle Max sì 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 veramente sono d'accordo Pietro bene bene ascolta c'è una cantante forse è vero che è Torino è della provincia di Torino io te lo dico poi non vuoi parlare non parliamo perché sono credo che mia figlia che l'ha ascoltata poi dice ma papà alla fine non mi convince io trovo i testi un po' avvicinarmi capire faceva arrabbiare è giusto Shadia se pronuncio questo nome io non lo so sai che se un po' mi conosci vedo che mi conosci non dono mai tutti i trancianti voglio conoscerle poi però scelgo io inizialmente questi testi non li capivo mi urtavano anche perché vedevo che le ragazzine che l'ascoltavano o non le capivano oppure vuol dire che lei non si faceva capire c'è questo problema Pietro ma io di Shadia non mi permetto di dire niente perché non la conosco abbastanza non solo come persona ma non la conosco proprio come artista e quindi peccarei di presunzione direi cose che non conosco ti posso dire che quel poco che ho ascoltato anche io l'ho trovato un po' criptico e soprattutto un po' facilmente preintendibile esatto facilmente preintendibile però non mi permetto di dire altro perché non la conosco ok bene 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 ancora ti chiedono di di Willy Pio ti abbiamo parlato testi bellissimi vabbè Johnny Cash qui da te risponde proprio giganti non tutta una serie di persone con la patena montuosa della musica certo certo ti han chiesto e poi andiamo in chiusura con ancora i prossimi progetti tuoi due cose ancora per proprio soddisfare tutte le richieste i tuoi compositori classici preferiti in modo politico ti han chiesto che dell'ottocento quali sono e poi le ultime due sono Branduardi e Mannarino vai e vabbè allora per quanto riguarda i compositori che io amo di più io sono innamorato di Puccini nel senso che questa parete di spartiti qua che è la parete di capito per un 80% è Puccini io amo l'opera tantissimo leggo tanto di opera quindi non posso non essere innamorato di lui esattamente come ho detto prima Mozart ma anche Beethoven nella sua Beethoven ha sconvolto i canoni della musica perché è stato uno dei primi romantici per dire per i compositori classici andiamo andiamo lì poi per carità se dobbiamo dire 800 appunto Puccini dell'800 anche Verdi anche Rossini stiamo smuovendo a te l'opera piace da impazzire ma perché ma quanti ragazzi della tua età amano l'opera siamo sinceri aspetta aspetta occhio a me piace l'opera nel senso che adoro i testi dell'opera mi fa cagare l'opera come è esposta cioè è già il quarto il quarto libro mi fa cagare l'opera e poi in Italia quindi vieni preso a sassate cosa vuoi dire vai 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 è un po' come la messa nel senso che io sto parlando non cattolico quindi non fraintendete quello che dico io penso che i valori del Vangelo siano bellissimi quelli veri non quelli contro i veri valori del Vangelo siano bellissimi ma sono esposti con il con queste mesi lunghissime di due ore in cui c'è la ritualità che si doveva proprio stancare l'opera è la stessa cosa l'opera io la trovo meravigliosa sono innamorato delle musiche delle composizioni dei testi e delle trame io ho parlato di opera in alcuni articoli nel senso che non mi permetterai mai di parlare di opera ma ho riassunto le trame delle più grandi opere in modo che siano fruibili da tutti no quindi che ne so la Turandot di Puccini riassunta perché è una trama spettacolare che però nessuno conosce perché per conoscere devi andare a fare quattro ore in teatro che sono proprio pesanti tanto pesanti quindi amo l'opera per questo motivo qua amo le trame dell'opera ami le trame sì effettivamente parliamo di scrittori geniali geniali l'opera la mia compagna aveva fatto l'acrobata all'area di Verona per la barbina di Siviglia allora ho preso in mano anche un po' il testo ma di cosa parliamo? parliamo di veramente trame trame strame strepitose e Mannarino e Branduardi cose molto diverse ti chiedono esatto c'è Branduardi e Mannarino certo Mannarino sono innamorato follemente di quel romano cioè io lo trovo bravissimo ha dei testi d'amore molto più d'amore di altri lo trovo se posso se posso permettermi di smuovere un gigante molto affine ad Andrè con una musica diversa cioè che tira fuori delle delle metafore delle delle poesie che tu ti ti dici ma come ti è venuta una roba del genere Mannarino bravissimo mi piace un sacco Branduardi io ho un rapporto molto lontano nel senso che lo conosco l'ho ascoltato ma è stato meno nella mia infanzia e quindi più o meno nelle orecchie sì 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 a volte chiaramente ha dei pezzi straconvolgenti un personaggio importante a volte è un po' lontano un po' pesante per questi per questi aspetti guarda ti dico tu ti ringrazio ho toccato anche per le 200 persone le domande sono tantissime Guccini l'ha già detto che è nel suo panteo Wagner tornerà tornerà me l'ha promesso qua in autunno nel prossimo anno nuova stagione del Barba Simposio Pietro tornerà lunedì cosa accade cosa esce lunedì Pietro esce mezz'aria esce non so se lunedì in particolare esce il 14 a mezzanotte dimmi tu sei lunedì o no il 14 a mezzanotte se oggi sì è lunedì certamente certamente esce mezz'aria che è questo pezzo questo brano pianoforte violoncello che presto sarà orchestra tra l'altro il videoclip domenica 14 e domenica la mezzanotte di domenica lunedì a luna ok va bene come si titola mezz'aria mezz'aria andremo a registrare il videoclip in cima al monte bianco con un pianoforte cioè stiamo proprio facendo di tutto è un brano pianoforte violoncello che racconta la rinascita per me la rinascita da un me adolescente al me che ama i bambini e per la violoncellista la rinascita da una malattia da un'anoressia molto pesante che l'ha portata poi a rinascere con la musica ed è strumentale strumentale piano violoncello piano violoncello tu al pianoforte al violoncello chi c'è? Anna Salmi che è questa ragazza che ha composto con me che ha composto e dunque per capire mi chiuso a questo siccome c'è questa storia che è strumentale come fa un ascoltatore a conoscerla questa storia? non deve non deve bellissima sta cosa la musica completamente priva di testo è che tu ti metti le cuffie e proietti quello che tu senti lì dentro e poi me lo racconti ed è lì che si arricchisce la musica si arricchisce di tutte quelle persone che ci vedono io vedo una cosa diversa da Anna e l'abbiamo composto insieme bellissimo questo è proprio l'arte come come la intendiamo più che mai oggi l'arte più che mai l'interpretazione come tu la vivi come tu la 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 fai tu a questa e dunque da lunedì di fatto su spotify su tutte le piattaforme poi Apple Music iTunes dappertutto Amazon dappertutto bene bene questo musicalmente altri progetti invece riguardo la musicoterapia io ricordo tutti che Schopenhauer è uno dei primi Schopenhauer e Freud sono tra i primi andando indietro già Aristotele parlava di arte terapia con la tragedia o con comunque il teatro ma Schopenhauer è proprio uno dei primi filosofi che dice a un certo punto la musica ti annulla quel malessere del desiderio quelle frustrate dunque la musicoterapia ha dei padri nobili per in quel campo che cosa che cosa c'è in Petro cosa bolla in Petro guardi gigantesco gigantenne di cui sono fiero nell'anima proprio ovvero ho messo un pionoforte a Regina Margherita è proprio donato cioè è entrato un nuovo strumento e i traguardi saranno sempre quelli per me il traguardo massimo è essere sempre più conosciuto per parlare a sempre più persone della musica della musicoterapia dei bambini del volontariato proprio con l'obiettivo di dirlo a più persone e quindi magari di mettere un pianoforte in ogni ospedale d'Italia che ne so è sempre quello di fare un po' di più il giorno prima bene mi sembrano cose bellissime allora l'obiettivo realizzato in parte della stata è questo perché la mia amica Viviana dice come venti Pietro perché non ti conoscevo perché non frecuno TikTok una bella sorpresa grande cultura musicale un bel modo di porsi bravo e anche questa sera il Barba Simposio realizza i suoi obiettini Pietro veramente ti mando un abbraccio anche per me nei mesi scorsi quando ci siamo incontrati è stata una bella scoperta la tua che cresce su TikTok dimostra che comunque si può fare nei social cultura poi è quella con la C maiuscola minuscola a me importa poco Pietro quando mi dicono ma è giusto portare la filosofia su YouTube per me è giusto io la vivo così vedo che tantissimo stanno facendo un po' l'apripista sono stato tu sicuramente stai aprendo tante strade ci rivedremo vero Pietro assolutamente poi noi siamo di Torino io direi che noi abbiamo un caffè insieme uno uno ci vediamo prendiamo un caffè insieme e chi lo sa che in questo poi il mondo che si riaprirà o quando presento un libro io quando tu prendi qualcosa ad un festival o una qualunque posto libreria che ci ospita facciamo dal vivo un qualcosa e riempiremo le sale va bene Pietro cambiamo il mondo ciao Pietro rimani con il bested voglio salutarti un attimo grazie mille tantissimi di saluto e tutto allora ragazzo bravo sensibile certamente Nenzi prossimo anno mi rinviti in Sicilia Nenzi che io io vengo ben volentieri cari amiche e cari amici si chiude un'altra puntata del Barba Simposo per giovedì prossimo ho due ancora ospiti in ballo hanno degli impegni cerchiamo di capire come incastrare ciao Enzino ciao Alessandro ciao Gregory alla prossima vi ricordo vi ricordo da domani su TP Erasmo da Rotterdam dunque l'elogio della follia di Erasmo da Rotterdam poi 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 il campus del cambiamento e domani dovrebbe anche uscire una nuova lezione delle cose dell'amore di Galimberti vi abbraccio buonanotte ciao Max ciao a tutti ci vediamo ciao Frederick Nice notte campione grazie a te a presto buona buonanotte